A novembre la giunta a Cese aveva rinnovato i contratti dei dipendenti precari per l'intero anno 2013. Poi però è arrivata la circolare 1 dell'11 gennaio, emessa dall'assessorato regionale al lavoro, con nuove regole. Così i comuni sono stati costretti a prorogare i rapporti di lavoro per soli quattro mesi, fino al 30 aprile 2013. Un percorso seguito anche dall'amministrazione Garozzo. Il sindaco, pur adeguandosi alle norme vigenti, ieri non ha lesinato critiche alla circolare 1. Scompare dalla proroga, ha scritto il primo cittadino, la procedura di stabilizzazione che non risulta più iscritta neppure nel testo. Una circostanza che, secondo Garozzo, significa in modo chiaro la rinuncia anche alla seppur flebile aspettativa di stabilizzazione. La nuova disciplina, inoltre, in tema di proroghe contrattuali, è perfino più stringente delle leggi nazionali. Con prolungamenti di massimo sette mesi, il che, a parere del sindaco, moltiplicherà le tensioni dei precari, un tempo annuali, ora ogni quadrimestre, e costringerà la regione a legiferare più volte nel corso di 12 mesi. Tutto ciò fa dire a Garozzo che un simile percorso creerà più problemi di quelli che invece tenta di risolvere. Grazie. Grazie. Grazie.